Salve sono urbano della Salve Moreno con sbagliato in Cucettio. Oggi vi presento una nuova arrivata nel nostro parco Mercurio usato. Si tratta di questa Renault Captur ed è un 1.5 di cilindrata turbodiesel 90 cavalli quindi 66 kilowatt dell'anno 2017 e cosa molto importante da dire è una vettura che può essere guidata dai nostri ragazzi e ragazze meno patentati quindi proprio una vettura totale per la famiglia di questo colore nero metallizzato e come potete vedere la carrozzeria esterna si presenta sempre veramente in un modo eccellente sempre brillante non ci sono graffi non ci sono ammaccature importanti piccolezze da macchina usata quello si troviamo sempre qualcosa sulle macchine usate però l'importante è che siano come è che il resto questa Renault molto belle da vedere esternamente. Andiamo adesso a vedere proprio rifinitore e accessorio della nostra vettura e partiamo dal frontale della nostra vettura partiamo dalle plastiche dei fari che guardate qua sono belle lucide quindi il faro ha il suo funzionamento al 100% quindi un bel fascio notturno rifiniture cromate sempre belle lucide come anche la mascherina anteriore cromata sempre bella lucida cerchi in lega bicolore quindi i cosiddetti diamantati da 16 pollici siamo adesso all'interno anche della nostra vettura andiamo a vedere proprio i particolari partiamo a livello visivo il cruscotto e i pannelli laterali belli da vedere infatti non ci sono graffi non ci sono usure le plastiche sono lucide come bella lucida la console centrale quindi è una vettura ancora all'interno gradevole da vedere cosa abbiamo poi di accessori l'interruttore per la partenza le doppie chiavi che in questo caso sono schede come è usuale della renault climatizzatore manuale e il suo display centrale dove troviamo il menu totale abbiamo il suo navigatore con la cartina abbiamo il bluetooth per abbinare il nostro cellulare per ricevere fare le telefonate e poi le varie impostazioni in più troviamo anche la guida eco quindi possiamo attivare il nostro la nostra guida per consumare meno insomma varie funzioni della nostra auto bracciolo centrale volantino con gli interruttori per il regolatore di velocità sulla sinistra per l'autoradio mentre il chilometraggio è 133 mila 912 chilometri con ultimo tagliando fatto a 122 mila 912 chilometri quindi una vettura anche controllata molto bene sotto il profilo della meccanica la tappezzeria anche questa molto bella da vedere questo in questo tessuto bicolore in contrasto quindi nero e grigio infatti come potete vedere non ci sono strappi e sulle cuciture non ci sono usure sul tessuto non ci sono buchi di sigarette perché il precedente proprietario non fumava quindi questa tappezzeria torna a dire come l'interno della nostra auto è veramente molto bello poi come il nostro solito viene lavato e igienizzato a vapore con questa lavorazione specifica infatti il risultato di questa lavorazione è l'avere proprio un abitacolo bello pulito profumato quindi un'ottima accoglienza quando saliamo sulla nostra vettura bagagliaio anche questo ampio e pulito con il sedile tra l'altro scorrevole per aumentare il nostro vano di carico mentre sotto il pianalino troviamo il ruotino di scorta con tutta la sua attrezzatura passiamo alla meccanica con tutti i suoi componenti al loro posto nel vano motore a partire da tubi in gomma spinette elettriche batteria livelli tutto al loro posto anche perché le nostre vetture prima di essere messe in vendita vengono comunque controllate presso il nostro servizi come seguendo una check list multicontrollo interna e sono praticamente 110 punti da verificare affinché la macchina sia completamente funzionante quindi nella norma vi saranno poi spiegati punti che sono stati controllati poi ci viene abbinato 12 mesi di garanzia come prescrive una legge una garanzia assicurativa con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi possibilità di pagamenti rateali personalizzati che vi saranno naturalmente spiegati in sede e adesso salite in siamo all'interno della nostra auto per il giro di prova analizziamo alcuni alcune cose intanto posizione di guida bella ottima perché rialzata da suv quindi si guida molto bene e naturalmente la visibilità è ottima come è buono il pedale della frizione perché è morbido e ha un ottimo stacco come è buono il il cambio preciso negli innesti anche l'assetto visto che il volante è dritto e la vettura va dritta su strada e non sentiamo assolutamente vibrazione sulle ruote quindi un'ottima scorrevolezza proprio su strada come buona l'insonorizzazione interna non ci sono nessun tipo di rumore la vettura scorre via su strada molto bene questa è stata già controllata e quindi è pronta per essere acquistata e naturalmente guidata ripeto ancora può essere guidata dai nostri ragazzi e ragazze neopatentate se poi abitate lontano ve la possiamo anche presentare in anteprima come con una videochiamata tramite whatsapp spiegarvi ogni particolare della nostra vettura almeno quando deciderete di venire la conoscete già passando proprio al motore è il 1500 4 cilindri 90 cavalli turbo diesel e motore veramente generoso e parco nei consumi si guida molto bene nel ciclo urbano perché ho veramente una una ripresa ottima e si guida molto bene anche sul viaggio lungo perché è un motore che scorre molto bene su strada quindi guidabilità generale eccellente dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni a questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto lo vedete naturalmente anche il prezzo seguiteci poi sui social facebook e instagram al nostro indirizzo sanicucenti questa Renault Captur è già disponibile in pronta consegna presso il nostro punto vendita quindi vi invitiamo già a venire a vederla e perché no a provare la sua strada oppure telefonate ai nostri domini vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande un grazie per l'attenzione e come diciamo sempre alla prossima vettura